David Cameron dà fuoco alle ultime cartucce della campagna elettorale a poche ore dal referendum che potrebbe cambiare il destino di Londra e dell'Europa. Per il Regno Unito è meglio restare perché solo così sarà più sicuro e prospero economicamente, ha ribadito parlando a Birmingham. Questo voto, se decidiamo di uscire, è irreversibile. Una volta che si scende dall'aereo non c'è modo di risalire, aprendo il portello della cabina di pilotaggio. Questa scelta non vale solo per la durata di questo Parlamento, per i prossimi 5 o 10 anni. È la scelta di una vita per chi vive nel nostro paese, in particolare per i giovani. A Londra rincara la dose Jeremy Corbyn, leader del partito laborista. Fate la scelta migliore per il nostro popolo. Votate per i posti di lavoro, per i diritti sul lavoro. Votate per il nostro servizio sanitario nazionale. Votate per restare nell'Unione Europea. In Scozia, l'area più favorevole alla permanenza, l'eventuale Brexit, potrebbe fare da volano un nuovo referendum indipendentista. Voglio che la scelta di restare sia maggioritaria in ogni parte del Regno Unito e spero che sarà questo l'esito che festeggeremo venerdì. Il mese scorso abbiamo detto che se la Scozia sarà obbligata a lasciare l'Unione Europea contro la propria volontà, avendo deciso di voler restare, allora dovrà avere il diritto di indire un secondo referendum. La Scozia ha già detto no all'indipendenza nel referendum del settembre 2014.